circuito total body con corda 25 minuti di lavoro con 3 giri di circuito dinamici ed efficaci iniziamo ok iniziamo circonduzione avanti delle spalle facciamo un super riscaldamento per questo super workout intermedio 10 secondi scaldiamo bene le spalle circonduzione ampia in avanti 5 4 3 2 1 e cambio sempre circonduzione spalle indietro movimento lento controllato inizia la respirazione naso e bocca scaldiamo tutta la parte alta e poi la parte bassa prossimo esercizio skip alto più rotazione oraria 5 4 3 2 1 skip alto più rotazione oraria delle spalle sincronizza bene il movimento salgo con il ginocchio destro e sinistro mantengo la rotazione attiva 10 secondi respira respira 5 4 3 2 1 stessa cosa skip alto rotazione anti oraria quindi le spalle vanno indietro separo bene i movimenti ginocchio ginocchio rotazione indietro continua respira naso bocca 5 4 3 2 1 skip alto più sollevamento braccia mantengo lo skip quindi salgo con le ginocchia alzo le spalle scaldiamo bene le spalle scaldiamo anche la parte bassa 10 secondi e cambiamo spinta ad una gamba respirazione sempre attiva 4 3 2 1 cambio spinta ad una gamba mezzo squat e salgo il movimento è rapido dinamico lo slancio è corto inizio a muovere anche le braccia insieme alle gambe respirazione attiva scaldiamo bene nella parte bassa 3 2 1 cambio spingi sull'altra gamba scaldiamo bene gambe glutei respirazione attiva utilizziamo sempre le braccia negli workout braccia e gambe si che si sincronizzano 5 4 3 2 1 ok cambio mezzo squat posizione di mezzo squat non scendiamo troppo è un mezzo squat andiamo ad attivare bene i muscoli delle gambe e dei glutei 10 secondi e cambiamo con corsa sul posto 5 4 3 2 1 cambio corsettina sul posto aumentiamo un pochino il ritmo respiriamo mi raccomando negli esercizi respirazione naso e bocca 10 secondi prepariamo il traccherino 5 4 3 2 1 recupero attivo di 10 secondi prendiamo la corda partiamo subito con salto corda a piedi uniti 3 2 1 vai salto corda a piedi uniti 20 secondi saltelli brevi facciamo circolare bene la corda muoviamo bene i polsi 10 secondi vai saltello pulito 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 5 4 3 2 1 cambio 3 jumping jack squat vai appoggia la corda reattiva parti subito vai andiamo in jumping jack e poi andiamo in squat mantieni il ritmo separa bene i movimenti 1 2 3 e squat 1 2 3 e squat vamos mantieni il ritmo 5 secondi 4 3 2 1 ok step touch riprendi fiato un attimo approfitta per recuperare inizia la respirazione naso e bocca ripartiamo subito 10 secondi prossimo esercizio salto con la corda prendiamo intanto la corda 5 4 3 2 1 vai parti subito saltello con la corda piedi uniti facciamo girare bene i polsi respirazione sempre attiva piedi uniti 10 secondi mantieni mantieni prossimo esercizio affondi indietro solo una gamba tra 3 2 1 vai appoggia la corda posizione di affondo vado dietro solo una gamba mani sui fianchi per migliorare la tua stabilità scendo sfioro con il ginocchio a terra non serve toccare mantengo il ritmo utilizzo le braccia per l'equilibrio vai 10 secondi mantieni il ritmo non rallentare 5 4 3 2 1 ok adesso puoi andare in step touch recupera approfitta per respirare naso e bocca respirazione sempre attiva negli esercizi non lavorare mai in apnea 10 secondi prendiamo la corda intanto ci prepariamo 5 4 3 2 1 vai salto con la corda sempre piedi uniti salto pulito respirazione attiva testa dritta vai 10 secondi prossimo esercizio affondi indietro andiamo a lavorare con l'altra gamba 3 2 1 rapida appoggia la corda posizione di affondo affondo indietro e risalgo faccio lavorare anche le braccia per l'equilibrio vai il ginocchio sfiora a terra non serve toccare mantieni il ritmo non rallentare sempre attivo vai addome contratto resisti poi passiamo lo step touch 5 4 3 2 1 ok step touch approfitta per recuperare respira utilizza sempre braccia negli esercizi per migliorare la tua stabilità 10 secondi riprendiamo la corda ripartiamo con salto corda piedi uniti tra 3 2 1 vai salto corda mantengo il saltello piedi uniti respirazione sempre attiva per non andare in affanno vai 10 secondi e poi facciamo un breve recupero mantieni mantieni 5 4 3 2 1 ottimo breve recupero ripartiamo con il plank in movimento andiamo giù a terra 3 2 1 vai plank in movimento tengo l'addome contratto salgo col ginocchio destro e sinistro destro e sinistro verso il petto respirazione sempre attiva mantieni un ritmo non rallentare 10 secondi resisti poi facciamo un breve recupero vai 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 4 3 2 1 ok breve recupero ripartiamo con il pugno incrociato 5 4 3 2 1 vai poi incrociato destra sinistra destra sinistra aumenta il ritmo mentre il ritmo vamos resisti i pugni a destra e a sinistra faccio lavorare anche le gambe gamba dietro e pugno gamba dietro e pugno respira mantieni sempre il ritmo attivo vai addome contratto resisti non ti fermare 10 secondi recuperiamo vai così così 5 4 3 2 1 ok breve recupero riprendi fiato plank ginocchio al gomito tra 5 4 3 2 1 vado in posizione di plank avvicino ginocchio verso il gomito mantengo sempre il ritmo mantieni questo ritmo non accelerare ma non rallentare destra sinistra destra sinistra vai respirazione attiva addome contratto resisti che poi passiamo lo step touch 5 4 3 2 1 ok risali step touch approfitta per respirare respira riprendi fiato naso bocca 10 secondi e ripartiamo con salto corda piedi uniti prendiamo la corda ci prepariamo 5 4 3 2 1 vai salto la corda piedi uniti mantengo il ritmo faccio girare bene i polsi reattivo reattivo e salto la corda non rallentare 10 secondi e passiamo a 3 jumping jack squat vai 5 4 3 2 1 ok poggia la corda 3 jumping jack 1 2 3 e vado giù in squat 1 2 3 e vado giù in squat vamos mantieni il ritmo non rallentare e giù in squat così 1 2 3 scendi bene in squat è uno squat pieno non un mezzo squat vai giù così 1 2 2 3 e giù 3 2 1 ok step touch 20 secondi approfitta un attimo per recuperare riprendi fiato ripartiamo tra 10 secondi respira esercizio successivo salto con la corda prendiamo la corda ripartiamo la grande 5 4 3 2 1 vai salto la corda piedi uniti mantieni il ritmo salta testa alta respirazione sempre attiva vai 10 secondi e facciamo a fondo indietro con una gamba cambiamo l'esercizio 5 4 3 2 1 cambio a fondo indietro solo con una gamba appoggia la corda a fondo indietro e salgo a fondo indietro e salgo utilizzo le braccia non per bellezza ma per migliorare l'equilibrio e la tua stabilità l'affondo è lungo il ginocchio non tocca a terra mantengo il ritmo non rallentare 10 secondi e facciamo poi lo step touch continua 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 3 2 1 ok passo in step touch 20 secondi respira sciogli le gambe riprendiamo fiato mi raccomando la respirazione sempre attiva 10 secondi e ripartiamo col salto alla corda sempre piedi uniti 5 4 3 2 1 vai aumenta il ritmo salta la corda mantieni il ritmo non rallentare respira respira piedi uniti piccoli saltelli 10 secondi e torniamo in a fondo indietro con l'altra gamba 5 4 3 2 1 ci siamo a fondo indietro appoggio la corda reattivo e vado indietro in a fondo a fondo utilizzo le braccia miglioro l'equilibrio addome contratto in a fondo lavoro sul gluteo vai sulle gambe resisti non rallentare trovo un ritmo e mantienilo 10 secondi vai 5 4 3 2 1 ok recupera in step touch respira riprendi fiato manteniamo alto il ritmo non rallentare resisti ripartiamo tra 10 secondi salto corda riprendiamo la corda aumentiamo il ritmo 5 4 3 2 1 salto la corda vamos 20 secondi mantieni il ritmo non rallentare respira respira mantieni sempre alto la velocità del salto non rallentare poi facciamo un breve recupero resisti ancora per 3 2 1 ok breve recupero ci prepariamo per il plank in movimento andiamo giù a terra intanto 3 2 1 posizione del plank addome contratto alterno salita ginocchio al petto destra e sinistra destra e sinistra respirazione sempre attiva addome contratto separo bene i movimenti prima salgo con una gamba appoggio la punta e salgo con l'altra vai lavoriamo addome braccia lombari 10 secondi e facciamo un breve recupero 5 4 3 2 1 ok risali ripartiamo subito col pugno incrociato preparati tra 3 2 1 vai pugno incrociato più velocità più entusiasmo vai destra sinistra pugno 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 respiro sposto la gamba indietro e carico il pugno sposto la gamba indietro e carico il pugno addome contratto mantieni questa velocità non rallentare resisti ancora 10 secondi ancora 10 secondi vai e poi facciamo un breve recupero su 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 5 4 3 2 1 ok recupera 10 secondi andiamo giù a terra ripartiamo con plank ginocchio al gomito resisti 3 2 1 va in posizione respirazione attiva avvicino al ginocchio al gomito movimento è controllato non veloce cura la tecnica addome contratto resisti resisti avvicina il ginocchio al gomito separa bene i due movimenti non andare troppo veloce cura la tecnica e mantieni la respirazione attiva 5 4 3 2 1 ok recupera 20 secondi riprendi fiato ripartiamo tra 10 secondi con lo step touch 3 2 1 ok riprendiamo corsettina sul posto 5 4 3 2 1 breve recupero salto la corda partiamo subito prendiamo la corda mi raccomando respirazione sempre attiva 3 2 1 vai salto la corda sono 30 secondi di salto la corda salto la corda in corsa quindi simuliamo una corsa alterniamo bene la gamba destra con la gamba sinistra mantengo il ritmo vai come se corressi sulla corda 15 secondi respira respira 10 secondi e passiamo a 3 jumping jack più squat 5 4 3 2 1 cambio 3 jumping jack più squat vai 1 2 3 e vado giù in squat 1 2 3 chiudo le braccia vado giù in squat mantengo il ritmo utilizzo le braccia negli esercizi è veramente importante per la coordinazione e l'equilibrio vai e giù in squat ancora 1 2 3 e squat mantengo il ritmo 3 2 1 ok step touch rallenta un attimo riprendi fiato 5 secondi 4 3 2 1 recupero attivo approfittiamo per prendere la corda respira 5 4 3 2 1 ok riparti aumenta il ritmo salto corda in corsa vai simuliamo la corsa saltiamo la corda facciamo girare bene i polsi manteniamo il ritmo 20 secondi vai vai 15 secondi respirazione sempre attiva non rallentare resisti 10 secondi e passiamo a fondo indietro solo una gamba 5 4 3 2 1 ok cambio appoggio la corda posizione di affondo vado indietro utilizzo le braccia scarico bene il peso indietro il ginocchio non deve toccare terra mi fermo prima addome contratto mantieni questo ritmo del video e non rallentare vai vai a fondo risali a fondo risali mantieni movimento non rallentare 5 4 3 2 1 adesso puoi rallentare in step touch respira breve recupero tra 5 4 3 2 1 riprendiamo la corda mantieni sempre la respirazione attiva salto con la corda 3 2 1 vai sempre salto in corsa simuliamo una corsa destra sinistra un piede dietro l'altro vai 20 secondi non ti fermare mantieni il ritmo siamo nel vivo del workout non rallentare mantieni sempre alto il livello 10 secondi esercizio successivo a fondo indietro con l'altra gamba manteniamo il ritmo vai 5 4 3 2 1 ok cambio veloce appoggio la corda posizione di affondo vado indietro faccio l'affondo utilizzo le braccia sui fianchi utilizzo le braccia in avanti per migliorare il mio equilibrio mantengo il ritmo senza rallentare in affondo il ginocchio non deve toccare terra si ferma leggermente prima 10 secondi e rallentiamo in step touch vai non rallentare mantieni il ritmo 3 2 1 ok step touch approfitta per respirare sciogli un po le gambe 5 4 3 2 1 prendiamo la corda ripartiamo con salto la corda in corsa aumentiamo il ritmo vai 3 2 1 e riparti salto della corda in corsa mantieni il ritmo alto non ti fermare testa dritta simolo la corsa saltando la corda 20 secondi vai respira respira 15 secondi mantieni il ritmo non rallentare 10 secondi e facciamo un breve recupero resisti fino alla fine 5 4 3 2 1 breve recupero appoggio la corda andiamo giù a terra ripartiamo con plank in movimento 3 2 1 vai plank in movimento vado in posizione di plank alterno la salita del ginocchio verso il petto e destra e sinistra addome contratto respira ai 20 secondi ancora non mollare mantieni il ritmo salgo e scendo salgo e scendo appoggio la punta e parte l'altra appoggio la punta e parte l'altra mantieni il ritmo non rallentare 5 4 3 2 1 ok breve recupero poi incrociato ci prepariamo il primo incrociato a destra e sinistra poi incrociato veloce dinamico 2 1 vai poi incrociato sposto la gamba e vado di pugno vamos 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 mantengo il ritmo respira butta fuori l'aria con la bucca su ogni pugno carico il pugno carico il pugno 15 secondi sposta il piede e do il pugno a destra sposta il piede do il pugno a sinistra 10 secondi facciamo un breve recupero vai 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 5 4 3 2 1 recupera ci prepariamo per il plank ginocchio al gomito esercizio difficile resisti 3 2 1 vai posizione del plank cura la tecnica non andare troppo veloce mantieni la respirazione attiva per non andare in affanno e arrivare fino alla fine destra sinistra destra sinistra avvicino il ginocchio al gomito respira testa rilassata addome contratto 10 secondi 6 mantieni mantieni 5 4 3 2 1 ok recupera 20 secondi siamo arrivati alla fase dell'allungamento ottimo workout sei andata alla grande 10 secondi e recuperiamo iniziamo con allungamento sul fianco tra 5 4 3 2 1 allungamento sul fianco una mano sul fianco l'altra sopra la testa non vado a forzare lo stretching gambe divaricate mantengo l'allungamento senza forzare respiro naso e bocca 3 2 1 cambio lato dall'altra parte una mano sul fianco l'altra sopra la testa mantengo lo stretching senza forzare respiro prossimo esercizio mobilizzazione per la colonna 5 4 3 2 1 mobilizzazione per la colonna esercizio top per la schiena per lo stretching della schiena salgo guardo in alto rientro respirazione sempre attiva 3 2 1 cambio stretching ad una gamba allargo il braccio per mantenere la mia stabilità e il equilibrio nella posizione prendo bene il piede cerco di mantenere la posizione senza perder l'equilibrio 5 4 3 2 1 la stessa cosa dall'altra parte allungo il braccio prendo bene il piede mantengo la posizione fisso un punto mantengo lo stretching respirazione sempre attiva 10 secondi e poi andiamo su piegamento incrocio gambe 5 4 3 2 1 piano piano cambio piegamento incrocio gambe vengo in avanti con una gamba incrocio scendo arrivo dove riesco senza forzare troppo lo stretching la mobilità si guadagna con il tempo 5 4 3 2 1 cambio 5 4 3 2 1 cambio incrocio sull'altra gamba vado giù piano piano sento lo stretching dietro mi fermo tengo la posizione respiro testa rilassata 10 secondi e andiamo in divaricata frontale 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 ok piano piano cambio allargo bene le gambe scendo lentamente arrivo dove sento lo stretching dove sento l'allungamento sulla parte dietro della coscia e mantengo la divaricata 5 4 3 2 1 mi sposto da una parte mantengo in linea le braccia e la testa con il piede senza spingere troppo mantengo respirazione attiva sempre 5 4 3 2 1 lentamente mi sposto dall'altra parte braccia mani e testa in linea con la gamba e mantengo lo stretching 10 secondi respira non saltare mai lo stretching negli workout e nemmeno riscaldamento 3 2 1 risalgo piano piano ok il tuo workout è finito hai fatto un super allenamento vamos